Hai mai l'impressione che ti manchi qualcosa, che servirebbe qualcosa per il tuo corpo, per la tua mente, qualcosa per darti il giusto equilibrio? Io sono Antonia Califano, sono una nutrizionista, mi occupo dell'alimentazione per atleti e sono una formatrice di insegnanti yoga. Da qualche anno ho messo a punto un corso che si chiama Yoga per la guarigione, perché volevo dare la guarigione attraverso lo yoga, che poi è lo scopo principale di questa meravigliosa disciplina. Il mio yoga è uno yoga per tutti, è uno yoga che tutti possono praticare, non importa l'età, non importa il sesso, non importa da dove vieni, importa solo la volontà e la consapevolezza di voler fare un percorso, insieme a me, insieme a Luigi e insieme a tante persone che mi raggiungono da tutto il mondo. Sono anni che giro il mondo alla ricerca di nuovi spunti ed è per questo che mi chiamano la Yoga Bonda, ma soprattutto perché quando le persone arrivano da me cominciano a sorridere e soprattutto perché non ti chiedo di essere un acrobata, un ballerino, un atleta, ma ti chiedo di essere te stesso alla ricerca del benessere reale. Che ne dici? Ci stai?